direi che iniziamo subito. Bene, buongiorno a tutti, siamo pronti per iniziare con questa seconda tavola rotonda della giornata che come vedete è dedicata alla politica di allargamento dell'Unione Europea, un tema altamente attuale visto anche che proprio questa settimana la Commissione Europea ha pubblicato il pacchetto allargamento 2023 di cui avremo modo anche di parlare durante questa conversazione. Io mi presento, sono Serena Epis, ricercatrice di Osservatorio Balcani e Caucaso Trans Europa e presento subito anche la nostra relatrice, i nostri relatori che innanzitutto ringrazio per aver accettato di partecipare a questa prima edizione di Estival. Abbiamo con noi Eleonora Poli, capo dell'ufficio italiano del Center for European Policy Network dove si occupa principalmente di democrazia, trend politici ed economici di Europa e Balcani occidentali. Davide Denti che lavora attualmente presso la Commissione Europea, nello specifico alla Direzione Generale proprio della politica di vicinato allargamento al desk politico per la Bosnia e Herzegovina. Dario Durso che è un ricercatore e signor presso il Centro Studi di Politica Internazionale CESPI di Roma ed è un esperto appunto di Balcani, sicurezza e integrazione europea. E infine abbiamo il professore Jens Volk, professore di diritto ordinario presso la Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento. Tra gli ambiti di ricerca ricordiamo e menzioniamo soprattutto diritto costituzionale comparato, federalismo comparato e trasformazione costituzionale dell'Europa sudorientale. Come vedete la domanda chiave che guiderà la nostra conversazione in questa ora, ora e mezza è appunto l'allargamento geopolitico può funzionare? Come è stato citato già anche nelle nostre conversazioni nella tavola rotonda precedente, in parte anche ieri sera, l'allargamento, la politica di allargamento è tornata ad essere una priorità sull'agenda politica europea con l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio del 2022 e l'allargamento europeo è diventato un vero e proprio imperativo geostrategico sull'agenda europea, soprattutto in risposta appunto alla politica aggressiva di Mosca. Il primo grande effetto di questa rinnovata attenzione, se vogliamo, alla politica di allargamento è stato proprio l'ampliamento della politica di allargamento stessa che ad oggi, togliendo la Turchia, comprende nove paesi, tra cui quindi oltre ai sei paesi dei Balcani occidentali, anche tre paesi del partenariato orientale. Quindi questa è stata anche la prima volta che effettivamente la prospettiva di adesione europea è stata aperta, è stata offerta anche a tre paesi del partenariato orientale che chiaramente sappiamo essere oltre all'Ucraina, anche la Moldavia e la Georgia che al momento è ancora considerata potenziale candidato, ma adesso vedremo anche con i recenti sviluppi del pacchetto e del report della Commissione pubblicata, pubblicato proprio questa settimana. Chiaramente questo nuovo contesto relativo alla politica di allargamento ha avuto un riflesso, ha avuto un impatto anche sulle relazioni tra l'Unione Europea e i Balcani occidentali. In un primo momento ci sono stati segni quasi di speranza per effettivamente rilanciare il rilanciamento anche della prospettiva di adesione europea anche dei paesi della regione. Sono stati fatti alcuni passi avanti anche rispetto ai paesi della regione, sono stati menzionati ad esempio la decisione di aprire i negoziati con Albania e la Macedonia del Nord, da tempo bloccati dai veti dei paesi membri, ma anche e soprattutto forse la decisione di garantire di offrire alla Bosnia-Herzegovina lo status di paese candidato. Quindi da un lato ci sono stati effettivamente dei segnali positivi, segnali quasi di speranza, dall'altro lato quello che sembra emergere però è sempre di più una situazione di stallo politico nella regione, una situazione di quasi peggioramento della situazione politica nella regione. Sono stati citati prima alcune situazioni, in primis ad esempio la situazione in Serbia, la posizione un po' ambigua della Serbia e problematica nella regione rispetto all'adesione agli obiettivi di politica estera dell'Unione Europea piuttosto che alla sempre più tesa relazione con il Kosovo. Per non parlare poi, e ne parleremo anzi, della situazione anche in Repubblica Srpska in Bosnia-Herzegovina e del deterioramento, un po' dell'allontanamento anche da quelli che sono gli standard europei. Quindi a circa un anno e mezzo dalla rinnovata attenzione, dal rilancio di questa politica di allargamento vogliamo un attimo chiederci se la logica geopolitica è effettivamente valida, è una strada valida ed efficace nel rilanciare in modo effettivo la prospettiva di adesione di tutti quei paesi che aspirano a diventare paesi membri. Io entrerei quindi subito nel vivo della conversazione insieme a Eleonora Poli, alla quale chiederei di specificare, insomma, di parlare un po' di quali possono essere i rischi legati all'allargamento o eventualmente al non allargamento. Grazie mille Serena e volevo anche ringraziare l'Osservatorio Balcani-Caucas e Trans Europa e la Luisa Chiodi per il gradito invito, è stato sempre un piacere essere dai vostri. Allora, appunto, la domanda è l'allargamento geopolitico può funzionare? Per me non si tratta nemmeno di una domanda, per me ci dovrebbe trattare di una affermazione. Si è iniziato a parlare di approccio geopolitico ormai anni fa quando la presidente Ursula von der Leyen ha appunto assunto il suo ruolo e ha parlato di un approccio geopolitico. Cosa significava? Cosa significa un approccio di politica estra geopolitico o di politica europea? Significa appunto la volontà da parte delle istituzioni europee di in qualche modo rispondere in maniera più forte rappresentando i cittadini europei, la cittadinanza europea in una scacchiera internazionale è sempre più complessa e sempre più divisiva. Si è visto che in alcuni casi ha funzionato ad esempio la risposta europea all'attacco russo in Ucraina è stata una risposta di tipo geopolitico in cui abbiamo visto appunto la maggioranza dei paesi europei mettersi d'accordo per avere una voce unica nella regione e lo si vede tuttora. Dal punto di vista dell'allargamento dei Balcani questo approccio dovrebbe essere tenuto e ci sono sì dei rischi ma se si vanno a considerare le conseguenze di un non allargamento in questa regione i rischi sono maggiori a mio avviso. I rischi che abbiamo adesso nell'allargarsi verso est sono diversi, si può partire da da quello più magari basico che è quello economico, appunto si tratta di una regione che non è economicamente così avanzata come la maggior parte dei paesi europei. Il reddito medio pro capita nei Balcani occidentali è dal 27 al 50% della media dei paesi europei. Però ci sono anche diversi aiuti, si sta cercando di creare un mercato regionale, l'ultimo pacchetto appunto di 6 miliardi va in questa direzione di stimolare sia il mercato regionale ma anche di aiutare la regione nel processo di riforma istituzionale. Questo diciamo il punto chiave, lo stato di diritto, la democraticità dei paesi dei Balcani occidentali, come funzionano le leggi, il rispetto appunto delle minoranze eccetera eccetera. Questo è sicuramente un punto su cui è stato detto che prima c'è molto lavoro da fare e deve essere fatto dai paesi della regione, l'Unione Europea può fornire supporto, l'allargamento può essere uno stimolo ma il lavoro va fatto, i compiti vanno fatti a casa. Allo stesso tempo quello che credo io è che anche l'Unione Europea però dovrebbe fare i propri compiti a casa. La maggioranza dei paesi europei, dei paesi membri è sicuramente a favore dell'allargamento, però anche lì abbiamo un approccio diverso. Se noi dividiamo per semplificare l'Europa tra Est e Ovest, vediamo come i paesi dell'Est, per esempio Polonia e Ungheria sono a favore dell'allargamento, soprattutto in funzione antirussa, però sono anche quelli che non vedono, cioè bisogna capire in che tipo di Unione Europea vogliamo che ci sia questo allargamento. I paesi appunto dell'Est Europa tendono a vedere l'Unione Europea, almeno fino a essere, magari in Polonia la situazione cambierà, però non ho sempre visto la necessità di un'Unione Europea non così tanto federalizzata, con meno potere concentrato a livello di Bruxelles, una sorta di grande mercato comune diciamo, con qualche funzione a Bruxelles, ma il resto deve essere mantenuto a livello di paesi, di governi nazionali. D'altro lato abbiamo i paesi invece occidentali anche a loro a favore, come Italia e Germania in prima fila, a favore dell'allargamento però viene richiesto che ci sia una riforma appunto della governance europea. La stessa Francia lo richiede. Cosa vuol dire una riforma della governance europea? Quello che credo io è che a prescindere dall'allargamento c'è bisogno, se vogliamo veramente avere un'Unione Europea che abbia una valenza geopolitica in un contesto così complicato come quello in cui viviamo, serve un'Unione Europea che abbia una capacità di decidere o di decisione molto più rapida, molto più efficace ed efficiente, quindi necessità di riforma dei trattati e necessità di riforma del modo in cui vengono prese le decisioni che non necessariamente devono essere all'unanimità, perché il problema dell'unanimità è così, ci sediamo in un tavolino e siamo in 27 e dobbiamo prendere una decisione per mettere tutti d'accordo ovviamente verrà ridotto il contenuto all'osso in maniera che alla fine tutti sono d'accordo e non funziona così in un mondo così complicato come quello in cui viviamo. Quindi dobbiamo sicuramente fare anche noi i nostri compiti a casa e decidere che se vogliamo vivere in Unione Europea che abbia valenza geostrategica o geopolitica a livello globale deve essere un'Unione Europea più forte e in grado di prendere decisioni in maniera più veloce. Il rischio è che se non lo facciamo non saremo in grado di avere un allargamento efficace, si può parlare appunto del modello proposto dalla Francia, quindi un'Europa più velocità, ma anche quello non potrebbe funzionare in una dinamica globale in cui i poteri sono stati regionalizzati, in cui si ragiona appunto a sfere di influenza ormai. Il rischio è altrimenti che non ci allarghiamo e lasciamo questa regione che è geograficamente europea, è storicamente europea, che ha le nostre porte di casa con 17 milioni di abitanti, cioè la lasciamo non integrata all'interno dell'Unione Europea in balia di potenza esterna. Ne hanno parlato prima molto bene Elena e il professor Belloni. Abbiamo appunto questo sharp power della Russia che non ha sicuramente le risorse economiche finanziarie per intervenire lì, però può sicuramente manipolare, e lo sta facendo, l'opinione pubblica, in forma diretta tramite i media, ma anche in forma diretta tramite la Chiesa Ortodossa. Abbiamo potenze come la Cina che magari è interessata che i Balcani si integrino, ma è più interessata a fare investimenti nell'area e fa investimenti senza rispettare i regolamenti europei. E abbiamo altri poteri regionali che hanno interesse ad avere un'area non così stabile, perché è alle porte dell'Unione Europea o della maggioranza dei paesi dell'Unione Europea. Ricordiamo, non da ultimo, l'accordo che sta facendo l'Italia con l'Albania sulla questione dei migranti. Noi andiamo a creare, non integrando, lasciamo una regione che può essere una possibile polveriera, una possibile fonte di crisi, alle porte dell'Unione Europea. E allo stesso tempo parliamo di integrare paesi molto più complessi come l'Ucraina. e vorrei capire con quale faccia possiamo parlare di allargamento in altri paesi se non siamo in grado di allargarci in un paese che sta proprio all'interno già dei confini dell'Unione Europea. Quindi questo mio punto di vista non si può più parlare di domanda, non è una domanda, deve essere un'affermazione. E i compiti vanno fatti non solamente a livello regionale ma anche a casa. Grazie. Grazie mille Eleonora per questa panoramica su quelli che possono essere effettivamente rischi di un mancato allargamento. Grazie anche per avermi dato lo spunto per procedere e dare la parola adesso a Davide Denti parlando un po' anche di riforma interna della governance dell'Unione Europea perché come giustamente ricordava Eleonora anche l'Unione Europea deve fare i conti a casa propria, deve fare i compiti a casa propria. E appunto parlando di allargamento spesso uno dei timori di alcuni stati membri riguarda appunto come potrà funzionare l'Unione Europea composta da un numero sempre maggiore di stati membri. Allora chiederei proprio a Davide in che modo questa occasione di rilanciare l'allargamento può essere un'occasione anche di ripensare un po' il funzionamento interno, la governance interna anche dell'Unione Europea. Grazie, grazie Serena, grazie Eleonora per i primi spunti, grazie a tutti per l'invito e per la partecipazione oggi. Riparto anche io dal titolo del panel per dire che effettivamente il processo dell'allargamento nella storia dell'integrazione europea è avvenuto in vari momenti, in varie circostanze storiche, in risposta a cambiamenti dell'ambito geopolitico in cui il processo dell'integrazione europea si trovava. E ripensando appunto alla storia dell'integrazione europea, agli anni 70-80, la democratizzazione dei paesi mediterranei, Spagna, Portogallo, Grecia, che uscivano da dittature d'esterno a destra, ha portato a un secondo round di allargamento con ricadute sulle politiche interne dell'Unione Europea. Ci si poneva la domanda in quegli anni su come riformare la politica agricola all'ingresso di un paese come la Spagna, che era un forte esportatore di prodotti agricoli. Negli anni 90, con la caduta del muro, il cambiamento dell'intero scenario mondiale e la domanda, nel breve periodo, si è avuto l'ingresso dell'Unione Europea dei paesi ex-neutrali, della Svezia, della Finlandia e dell'Austria, e quindi la domanda d'adesione di tutti i paesi dell'Europa centro-orientale, che ha posto una grande sfida all'Unione Europea di ripensare il processo di allargamento verso paesi che andavano incontro a una doppia transizione verso il sistema autoritario di democrazie liberali e da economie pianificate e economie di mercato, spingendo lo stesso processo di allargamento a definirsi in maniera più specifica e a creare una vera e propria metodologia che è ancora oggi lì e se è ancora più specificata e resa dettagliata nel tempo. Oggi ci torniamo di fronte a un cambiamento geopolitico, probabilmente di magnitudine paragonabile a quello degli anni 90, a cui c'è stata una risposta da parte dell'Unione Europea coesa, forse molto più che si aspettasse la Russia, ma forse che ci aspettassimo pure noi, e da questo punto di vista sono più ottimista di altri relatori che hanno parlato precedentemente, perché ho l'impressione che questo, l'allargamento verso l'Ucraina, verso i paesi del Tri orientale e ancora verso i Balcani occidentali della Turchia che restano all'interno dell'agenda, possa diventare davvero un nuovo grande progetto per l'Unione Europea e possa spingere a una discussione che vada fino a una discussione sulla revisione dei trattati europei, discussione che è rimasta bloccata negli ultimi 15 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, perché negli ultimi 15 anni l'Europa è rimasta ingolfata in una serie di crisi che si sono sovrapposte l'una all'altra e che non hanno mai trovato vera conclusione. Mi scuso col professor Vox se sto già anticipando delle cose che avrebbe voluto dire lui, ma c'è stato un paper di riflessione di un gruppo di esperti franco-tedeschi nell'ultimo mese con delle proposte interessanti, perché chiaramente sono contributi che dovranno essere discursi, ma l'idea e il momento in cui l'Unione Europea inizia a pensarsi in un futuro a 30 e più porta ad aprire un pensiero su come vadano cambiati gli equilibri interni, le politiche, le procedure, eccetera. Riflessione che non c'è stata nell'ultimo periodo e questo io credo sia un momento di cambiamento della vitalità, della leadership politica degli stati membri dell'Unione Europea notevoli e forse inaspettato, così come è stato inaspettato la guerra d'aggressione della Russia verso l'Ucraina, la domanda d'adesione di questi paesi immediata all'Unione Europea quattro giorni dopo lo scopo del conflitto e la risposta immediatamente positiva degli stati membri a questa domanda dopo un decennio o più in cui comunque l'aspirazione all'integrazione europea da parte dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia c'erano, erano già state espresse, non ne hanno arrivate fino al livello di portare una concreta domanda all'adesione, ma erano state fin da allora accolte in maniera più fredda da parte degli stati membri e c'era stato in ultimo quindicennio una caduta, una diminuzione del peso politico dell'agenda d'allargamento rispetto ad altre agende appunto riguardo alle varie crisi che l'Europa ha tralassato. Quindi il rimontare dell'importanza politica del processo d'allargamento come risposta geostrategica come investimento di lungo periodo dell'Unione Europea verso il futuro e l'apertura di un discorso e di una discussione sul possibile futuro dell'Unione Europea 30 e più credo che rappresenti un momento di passaggio importante e di cui parleremo ancora molto a lungo nei prossimi anni. Lascio la parola ai miei colleghi per magari più tardi posso dire due parole in più sul pacchetto allargamento adottato giusto questa settimana. Magari facciamo effettivamente un primo giro e poi magari riprendiamo sul pacchetto di allargamento. Allora io chiederei, continuerei subito ringraziando chiaramente Davide per questi spunti iniziali e ripensare anche al fatto che effettivamente l'Unione Europea negli anni è cresciuta e in parte ha raggiunto anche livelli più alti di integrazione proprio risposta a momenti di crisi. Passerei però subito la parola a Dario D'Urso per focalizzarci adesso magari su un altro aspetto relativo alla politica di allargamento perché quando pensiamo al processo di adesione questo è, sappiamo essere un processo tecnico anche un processo in cui ai paesi candidati viene richiesto l'allineamento a quello che viene descritto viene detto la chi comunitario quindi il corpo di norme europee quindi questo aspetto anche più tecnico dei negoziati di adesione è un aspetto che non può, non deve essere trascurato anche nei rapporti, nei negoziati adesso con i nuovi paesi candidati permettetemi di chiamarli così e anche con i Balcani occidentali quindi chiederei proprio un commento su questa parte più tecnica e trasformativa del processo di integrazione. Buongiorno a tutti intanto anch'io mi unisco ringraziamenti a Serena e Luisa e a OBCT per questa occasione penso che per un paese come il nostro approfondire il dibattito sui Balcani occidentali sia un must, deve esserci quindi grazie davvero per questa occasione e grazie per l'invito ricollegandomi un po' a quello che hanno detto i relatori prima di me io vorrei un po' concentrarmi su una specie di quello che secondo me è un po' un paradosso la decisione di accordare lo status di candidato all'Ucraina, alla Moldova e ora anche alla Georgia e la raccomandazione appunto della Commissione al Consiglio è forse uno degli atti più geopolitici che la Commissione potesse compiere a me mutatis mutandis ha fatto un po' pensare al Big Bang della Commissione Pro di ingresso di dieci membri tutti insieme è ovviamente un atto estremamente politico è un atto che però deve essere ovviamente accompagnato da una parte tecnica molto importante, molto forte è che dovrà continuare anche quando i riflettori per un motivo o per un altro su questa regione andranno magari lentamente a spegnersi quello che temo io è una specie di effetto risacca è ovvio che per esempio la posta in Erzegovina è stato forse il paese che maggiormente ha beneficiato è un po' forse un po' brutto da dire ma è che maggiormente ha beneficiato della guerra in Ucraina perché probabilmente senza la concessione dello status di candidato all'Ucraina e alla Moldova e ora anche alla Georgia la Bosnia-Herzegovina non so quando avrebbe visto aprirsi o cominciare a dischiudersi questa porta e quello che temo io è che una specie di effetto risacca cioè che magari appunto quando l'effetto fuoco d'artificio che sicuramente c'è stato della concessione dell'allargamento al Tri-Orientale andrà magari a scemare perché magari speriamo a un certo punto la guerra prenda un'altra prega o semplicemente come un po' il caso in questi giorni con la crisi in Medio Oriente altre altre crisi emergeranno e un paese come la Bosnia possa in qualche modo uscire nuovamente da questo cono di luce che le è stato proiettato e il focus il nuovo focus sui Balcani che ha portato la commissione deve essere capace di sostenersi da solo non può andare al traino di altri eventi geopolitici per quanto possono essere importanti e trasformativi effettivamente è un po' quello che è emerso già con il nuovo pacchetto sull'allargamento che è appena uscito di cui probabilmente Davide parlerà in maniera molto più approfondita e il quadro è abbastanza desolante per quanto riguarda la Bosnia-Herzegovina che è un paese di cui parlo con più familiarità e che mi sta più diciamo più al cuore la lista delle famose 14 priorità indicate dalla commissione nel 2019 sullo status di candidato resta quasi del tutto lettera morta di queste 14 raccomandazioni soltanto due sono state pienamente compiute implementate altre sono molto agliate da venire altre sono state anche formulate in un modo un po' troppo come dire ambizioso l'idea che la Bosnia-Herzegovina possa dotarsi di una corte suprema o un organo simile che possa garantire la certezza della giurisdizione di tutto il paese per le dinamiche interne della Bosnia-Herzegovina mi sembra effettivamente qualcosa di un po' un boccone un po' troppo grosso però diciamo a parte questo la Bosnia in questo momento è un po' una specie su un tapirulano la Bosnia è ferma c'è questo tapirulano che piano piano molto piano velocità 1 diciamo va avanti e quindi per questo mi ricollego al discorso di prima l'importanza del piano tecnico l'importanza della dei tavoli che dovranno compiersi del processo dietro le quinte che ovviamente sarà meno politicamente emozionante rispetto alle dichiarazioni che possono essere fatte davanti ai giornalisti ma che è necessario proprio per il potere trasformativo e qui faccio un inciso probabilmente la portata geopolitica dell'allargamento o comunque la portata geopolitica che la Commissione vuole imprimere al proprio operato deve anche tradursi in altro soprattutto per quanto riguarda i Balcani occidentali la Commissione Europea l'Unione Europea in generale non può deve essere più purattiva non può come dire ci sono certe dinamiche che non che ci hanno portato dinamiche interne ai Balcani ai paesi balcanici che ci hanno portato allo stallo che viviamo ormai da tempo l'accettazione delle stabilocrazie la cosa secondo me assurda di continuare a dare la colpa al Kosovo per quello che sta succedendo con la Serbia addirittura ricorrere a delle sanzioni è soltanto quello che è successo a Vanshka a un certo punto ha fatto sì che questo stato di cose fosse insostenibile quello che sta succedendo in Montenegro se ne è accennato prima il fatto che si è riuscito più o meno a battere tra virgolette una stabilocrazia ora il rischio però è che questo nuovo governo di taglio centrista almeno il cui il partito principale il movimento Europa Ora ha un taglio centrista tecnocratico venga però preso in ostaggio anche qui tra virgolette dalla coalizione di partiti filoserbi e filorussi che addirittura non soltanto hanno l'appoggio esterno esprimono il presidente del Parlamento ma addirittura nel programma di governo si è già deciso che fra un anno ci sarà un reshuffle e questa coalizione per il futuro del Montenegro entrerà direttamente nel governo quindi lì sono degli spazi in cui secondo me per non parlare ovviamente scusate se ritorno lì a quello che sta succedendo in Bosnia e in Herzegovina soprattutto in Repubblica Serbsca questo appeasement nei confronti di Dodik il fatto che i diritti civili di Repubblica Serbsca siano ormai veramente non dico calpestati però l'introduzione della legge sui foreign agents per quanto riguarda la registrazione dell'ONG il ritorno della criminalizzazione della diffamazione il fatto che non ci sia più certezza legale con la decisione ispirata da Dodik di non riconoscere le sentenze delle porte costituzionali nonché le decisioni dell'autorappresentante sono tutti elementi su cui secondo me si può si dovrebbe spingere l'acceleratore geopolitico forse l'Unione Europea in questo senso dovrebbe essere un po' meno timida e più proattiva nella promozione di certi valori certi standard chiudo con un pensiero alla prossima Commissione Europea siamo quasi alla scadenza si dice probabilmente che la von der Leyen avrà un nuovo mandato considero il fatto che il ruolo di commissario all'allargamento non possa più essere considerato un commissario di serie B lasciato magari a un paese o una personalità tecnica o politica che non abbia un certo standing è la nuova frontiera veramente della geopolitica europea l'allargamento non si può lasciare questo ruolo che diventa sempre più importante a una figura non diciamo all'altezza della situazione come ne voleva e con questo concludo grazie mille grazie mille Dario per questo intervento e di nuovo per avermi dato il giusto aggancio per dare ora la parola al professor Volke quando ci hai parlato di un approccio più proattivo magari richiesto da parte della Commissione nel promuovere anche quelli che sono i valori gli standard i principi su cui gli stati membri e l'Unione stessa è fondata col professor Volke vorrei toccare uno dei concetti che è un concetto chiave quando si parla di politica di allargamento che è appunto il concetto di condizionalità una condizionalità che ha un lato tecnico quindi chiaramente negoziati adozione di quello che abbiamo detto essere l'acchi comunitario ma una condizionalità che dovrebbe essere estesa in modo tale da abbracciare anche tutto quel lato valoriale di principi di valori di standard su cui siamo fondati in quanto Unione Europea e quindi al professore chiederei proprio un commento una riflessione sul concetto di condizionalità al di là del suo significato puramente tecnico grazie grazie ringrazio anch'io dell'invito e ovviamente anche della possibilità no no certo però anche certo però adesso sono anche chiamati sul panel parlo e per questo e questo non era una scelta mia ecco no ma quello che è molto importante che facciamo questo e ovviamente siamo già una comunità direi quasi di persone interessate a questi temi a queste discussioni e in questo siamo forse anche un po' speciali rispetto al resto della popolazione io volevo iniziare proprio con questa idea del vecchio continente e del vecchio allargamento cioè un vecchio continente ha prodotto un vecchio allargamento no questo mi sembra la situazione degli ultimi vent'anni ricordiamo dieci anni fa Jacques Santer forse non lo ricordiamo ma io ve lo ricordo che diceva non ci saranno più allargamenti dopo la Croazia che è entrata quasi senza che qualcuno lo notasse veramente allora questa è la situazione a 15 anni proprio questo è un non tema per la maggior parte della popolazione nonostante i sondaggi favorevoli e così via ma è un non tema dal punto di vista politico e vorrei anche fare una piccola provocazione agganciandomi a questo che hai appena detto tu in modo molto diplomatico forse avremo bisogno nella prossima commissione e c'è una proposta credo della Spagna di un commissario o meglio una commissaria per la difesa proprio non per fare l'esercito europeo ma comunque per parlare in modo più coordinato degli appalti del procurement delle piattaforme di armamenti di altre questioni adesso che abbiamo usato la peace facility per sostenere la guerra o meglio l'Ucraina nella guerra contro la Russia sono dei paradossi questi e andrebbe anche proprio proprio trattato di petto questa questione perché è una questione anche del valore cosa vogliamo dove vediamo questa Unione Europea cosa è il ruolo geopolitico di questa Unione Europea allora se parliamo dell'allargamento geopolitico che può funzionare o meno il tema del nostro panel io devo devo dire deve funzionare non abbiamo scelta dobbiamo farlo funzionare e dobbiamo essere determinati in volerlo farlo funzionare altrimenti possiamo andare a casa possiamo non è che non abbiamo raggiunto questo è il problema abbiamo raggiunto già molto con questa integrazione europea e oggi nel mondo anglosassone 11 novembre si festeggia o si celebra o si ricorda l'Amistice Day la giornata dell'amistizio da noi si fa poco ma è la fine della prima guerra mondiale poi possiamo aggiungere la seconda e quello che abbiamo creato nel superare entrambi e questo è sicuramente un fondamento importante ma non possiamo riposarci ma dobbiamo e il trattato di Lisbona è già anno prossimo saranno 15 anni che l'ultima riforma seria dell'Unione Europea abbiamo reagito a tante crisi abbiamo superato anche questo ma non senza conseguenze di cambiamento informali all'interno dell'Unione Europea per esempio un peso molto maggiore del lato intergovernativo del Consiglio rispetto all'architettura istituzionale perché sono i capi di Stati e capi di governo che reagiscono alle crisi si vedono e questo ha portato ad un assetto un po' diverso rispetto a quello che allora anche questo è un dibattito vogliamo più intergovernativo oppure vogliamo più elementi di sovranazionalità per esempio il discorso della difesa comune almeno a partire dagli stessi armamenti e così via ecco arrivando ai Balcani penso che abbiamo siamo di fronte e per l'Ucraina non sarà molto diverso adesso c'è il conflitto ma poi i cambiamenti interni hanno la stessa logica la questione centrale secondo me che è emersa qui ma anche soprattutto nel panel precedente dei regimi autoritari della state capture come ci facciamo appeasement diciamo va bene e contiamo proprio i dettagli tecnici per carità io sono mi occupo di diritto e questi dettagli sono importanti però facciamo questo e scriviamo some progress che nel linguaggio diplomatico della commissione vuol dire praticamente zero no cioè non zero ma praticamente zero oppure e poi possiamo pensare di avere un Alexander Vucic seduto a Bruxelles nel consiglio dei capi di stati del governo abbiamo già qualcun altro di un paese che gentilmente tu non hai nominato io lo dico dell'Ungheria e della Polonia fino almeno fino ancora per qualche mese speriamo che cambi questo presto e questi hanno rovinato la credibilità stessa dell'Unione Europea questo dovrebbe essere la lezione proprio dall'interno e questo si proietta verso l'esterno io mi ricordo quando sono stato in Bosnia abbiamo fatto tante discussioni le risate sulla questione dello Stato di diritto e l'insistenza dell'Unione Europea che è uno dei fondamentals non perché solo ci crediamo ma perché è necessario per fare funzionare questa integrazione che è basata soprattutto sul diritto e sulla reciproca fiducia io devo potermi fidare dei giudici in Polonia e in Ungheria quando faccio un mandato di arresto con cui mando qualcuno in una procedura più semplice più veloce in questi paesi perché non devo avere paura che i diritti fondamentali di queste persone che vengono mandati lì siano non rispettati ma c'è un livello uniforme o almeno equivalente della tutela dei diritti fondamentali in tutta l'Unione Europea cioè non sono questioni tecniche sono anche e soprattutto questioni tecniche ma sono anche questioni che riguardano i diritti delle persone che riguardano valori e principi costituzionali e di questo negli ultimi 15 anni non si è più parlato e questo è un grande peccato perché ovviamente queste sono le questioni che dobbiamo affrontare abbiamo parlato del Kosovo prima avete parlato del Kosovo prima ma ma che cosa stiamo parlando abbiamo detto che il Kosovo ha una prospettiva che è già un gergo diplomatico anche molto carino perché dire più lontano ma comunque ha una prospettiva anche il Kosovo di entrare ma come deve entrare il Kosovo se la Serbia dice noi non lo riconosciamo e se cinque stati ma è assurdo scusate la chiarezza ma è semplicemente non voglio essere diplomatico oggi non è possibile pensare che il Kosovo possa entrare se non diventi almeno per questo è bello i giuristi hanno questo secondo logico giuridico almeno per un secondo deve essere stato per poi essere integrato e comunque cedere tanto della sua sovranità ma all'Unione Europea non alla Serbia e la Serbia è la stessa cosa di cosa stiamo parlando dobbiamo fare capire a questi stati non tanto quello che leggiamo nei rapporti che sono i dettagli tecnici della condizionalità ecco torno anche alla domanda la condizionalità che è stata negli ultimi 15 anni praticamente solamente interpretata come cosa tecnica da lasciare alla commissione e a altre commissioni bilaterali alle istituzioni ma non è così abbiamo una condizionalità la questione della Corte Suprema in Bosnia se la Corte in una Bosnia profondamente divisa abbiamo voi non immaginate voi vedete le due entità ma in verità ci sono quattro sistemi giuridici diversi ordinamenti giuridici diversi in Bosnia quattro codici civili quattro codici di procedura civile di procedura ordinaria in un paese con ora meno di 3,5 milioni di abitanti allora in questo paese che è così diviso avere chiedere una Corte Suprema o qualcosa la commissione è già generosa o qualcosa di equivalente che può funzionare come se ci fosse allora questo è un dato politico non è una questione tecnica è anche una questione tecnica perché serve nel rapporto con la Corte di Giustizia per far funzionare in futuro l'integrazione giuridica dell'Unione Europea ma è una cosa politica allora non basta che ci vanno i funzionari dirigenti bravissimi della Commissione Europea e affrontano i politici ma deve esserci un fortissimo peso politico da parte dei capi di Stato e di Governo e dell'Unione Europea Ursula von der Leyen Charles Michel o i successori prossimamente e secondo me è proprio questo che dobbiamo capire la stessa cosa vale con la Serbia io capisco totalmente il discorso che è stato fatto prima con la Russia ma noi dobbiamo anche per la nostra stessa credibilità dire noi siamo un modello democratico noi abbiamo altri valori e questa è la forza altrimenti non sarebbe stata possibile questa integrazione attraverso il diritto e non basato sulla imposizione da parte di uno dei grandi poteri appunto la Germania assolutamente no ma nemmeno la Francia non sarebbe stato possibile è stato provato nella storia ma abbiamo scelto un'altra strada e dobbiamo tornare e fare proprio molto chiarezza proprio questa strada e lì da lì arriviamo e io mi fermo però alla questione che ha anche già toccato Davide Denti prima proprio il modello del futuro c'è questa bozza degli esperti franco tedeschi che è abbastanza interessante ma probabilmente non una soluzione ma anche lì ci vorrebbe un dibattito politico all'interno dell'Unione Europea e non soltanto no mi vengono in mente tante cose non diplomatiche che non dico adesso ma dico a pranzo grazie ringrazio grazie anche il professor Berl per aver riportato un po' anche tutta la questione sul lato più politico della politica di allargamento dei negoziati di adesione visto che è stato citato diverse volte che è uscito diverse volte il pacchetto di allargamento 2023 direi di fare questo secondo giro di interventi focalizzandoci un po' su quelle che sono le novità che sono state un po' descritte in questo pacchetto nei report annuali della Commissione Europea e magari focalizzandoci chiedendo anche a tutti i relatori e alla relatrice quali sono le aspettative che possiamo avere poi anche dalla decisione del Consiglio Europeo di dicembre perché sappiamo che quello che viene dalla Commissione sono raccomandazioni che poi devono essere approvati o meno dal Consiglio Europeo il Consiglio Europeo è forse il luogo dove emerge di più questo spirito questo elemento intergovernamentale se vogliamo dell'Unione Europea questo peso effettivo politico anche degli stati membri quindi farei questo secondo giro focalizzandoci su questo aspetto magari chiedendo a Davide di aprire il giro e poi chiedendo un contributo chiaramente da parte di tutti grazie grazie mille si citavo anche prima che la politica dell'allargamento resta una politica in cui le decisioni sono prese all'unanimità in cui la Commissione propone e gli stati membri decidono e anche se vogliamo fisiologico perché è una politica che è fondativa rispetto all'identità stessa dell'Unione cioè si tratta di definire chi si è detto dal tavolo chi fa parte del club e quindi è necessario che tutti debbano essere convinti fino alla fine di stare facendo la cosa giusta ora che questo sia necessario per ogni specifico step all'interno del processo se ne può discutere ci sono state proposte e si vedrà per il futuro per il momento è così per quanto riguarda il pacchetto allargamento che la Commissione ha adottato mercoledì e portato presentato davanti al Consiglio le novità fondamentali sono due da una parte c'è un riconoscimento e una proposta una raccomandazione di aprire negoziati con l'Ucraina e con la Repubblica di Moldova senza condizioni riconoscendo che la maggior parte delle raccomandazioni delle priorità specificate nelle opinioni della Commissione sulla loro domanda d'adesione del 2022 sono state portate avanti sono state completate ne restano alcuni elementi da finire da completare quindi la Commissione dice ovvio understanding con l'intesa che questi elementi verranno portati avanti e ugualmente c'è una raccomandazione di aprire negoziati con la Bosnia e Zegovina nel momento in cui quelle riforme ambiziose di cui si parlava prima saranno ugualmente state completate quindi una nuova spinta in avanti dopo l'altra decisione politica e geopolitica dell'anno scorso che era quella di raccomandare questi stessi paesi come paesi candidati in risposta alla loro domanda d'adesione all'Unione Europea avvenuta come si diceva prima pochi giorni pochi minuti a livello geopolitico a valle della guerra d'aggressione della Russia contro l'Ucraina e sottolineare solo che questa decisione è basata sia sulla volontà politica di dare una risposta a una richiesta sia dai paesi che fanno domanda sia dagli stessi stati membri che l'Unione Europea sia pronta a rispondere e sul fatto che c'è un effettiva un effettivo processo di riforma in corso in questi stati in questi paesi e che quindi si vedono anche dei risultati in Ucraina in Moldova eccetera su la lotta la corruzione e lo Stato di diritto riforme che saranno fondamentali sarà fondamentale che vengano poi postate avanti finalizzate durante i negozi e l'evoluzione su questo tornerò in un momento il secondo elemento di interesse del pacchetto all'allargamento di quest'anno è la proposta da parte della Commissione di un piano di sviluppo per i Balcani occidentali e quindi faccia da sostegno al processo dell'allargamento nei Balcani occidentali sul piano sociale ed economico si tratta di uno strumento finanziario che è addizionale rispetto ai fondi di tradizione fondi IPA la proposta si basa su il venturo l'avventura riforma del quadro finanziario multinuale dell'Unione fino a 2027 che la Commissione ha messo in campo per rispondere a tutta una serie di crisi che l'Unione ha attraversato negli ultimi anni bisognerà vedere quale sarà la risposta da parte degli Stati membri su questa proposta di riforma del bilancio dell'Unione che include questo piano di crescita per i Balcani piano di crescita che quindi si comporta tanto grant aiuti diretti che tentativi di mobilitare investimenti internazionali ed europei nei Balcani tramite prestiti agevolati che possano sostenere la crescita economica produrre investimenti e fare in modo di affrontare anche quei problemi di cui si era parlato prima del brain drain dell'immigrazione dei giovani legate alla mancanza di prospettive sia economiche che politiche assieme a questi elementi vi è la richiesta per i paesi dei Balcani di procedere con l'integrazione economica regionale ossia fare in modo che i mercati di questi piccoli paesi alla fine si integrino tra di loro nello stesso momento in cui si apre e si dà a loro la possibilità di avere accesso al mercato unico europeo e questi due processi devono essere strettamente legati non sarà possibile a ciascun paese dei Balcani bloccare i propri vicini per rispettivi se non escludendo se stesso dallo stesso processo di accesso e dalla stessa possibilità di accesso al mercato interno europeo e appunto come ultimo e fondamentale elemento le riforme sui fondamentali le basi del processo di decisione quindi lo stato di diritto la democrazia i diritti umani perché questo hardware del processo dell'allargamento della della costruzione statuale del Balcani occidentale va comunque rafforzata sia per garantire che vi sia la possibilità di accedere di avere istituzioni che funzionano per garantire l'accesso al mercato interno ed integrazione europea sia perché senza questo scheletro il futuro processo dell'allargamento non troverà di nuovo delle sfide importanti quindi le decisioni politiche le raccomandazioni di aperto di negoziati e il piano economico di sostegno e di crescita per i Balcani occidentali ritornerei un attimo sulla questione delle riforme per sottolineare anche che io vedo a volte un dischio che ci si focalizzi sugli elementi procedurali anziché più sugli elementi sostanziali del processo di integrazione europea è vero il processo di integrazione europea prende un tempo molto lungo e vari paesi candidati sono rimasti bloccati in tale processo per via di veti bilaterali legati al fatto che le decisioni all'interno di questo processo rimangono a milanimità ma ciò non vuol dire che le riforme nei paesi stessi non vengano portate avanti sono state fatte moltissime riforme in Albania e in Macedonia del nord negli scorsi anni pensiamo solo alla riforma del giudiziario più di tre o due terzi ormai dei giudici e dei procuratori albanesi sono stati sostituiti e ripiazzati con nuove persone senza alcun dubbio sulla loro integrità e con competenze verificate ugualmente le riforme sono avvenute in Macedonia del nord che vuol dire che nel momento in cui questi paesi apriranno i negoziati formali potranno andare anche più velocemente che altri paesi che invece le hanno aperte dieci anni fa e che stanno procedendo in maniera abbastanza lenta ugualmente si parla di aprire i negoziati con Ucraina e Moldova si dice ok ci prenderanno decenni il processo sì prenderà il tempo che ci vuole non c'è una data finale se non state ventilate proposte se ne è parlato anche ieri Ucraina Moldova Georgia hanno accordi d'associazione e di zone di scambio commerciale approfondita con l'Unione Europea che fanno sì che abbiano già iniziato a integrare il diritto europeo in vari settori nel proprio ordine interno così come altre iniziative nel discorso decennio hanno espanso la zona di applicazione del diritto europeo all'esterno del suo frontiere penso alla comunità europea dei trasporti la comunità europea dell'energia per cui di fatto questi paesi hanno già iniziato il lavoro sostanziale di allineamento col diritto U e con la CHI anche se non hanno ancora iniziato i negoziati dell'adesione quindi il mio suggerimento è non solo di pensare al processo allargamento come procedura negoziati l'apertura di tot capitoli tot cluster interim benchmark closing benchmark eccetera ma di guardare la sostanza di vedere quanto già prima e già in anticipo i paesi che vogliono che davvero esprimono una volontà politica di aderire all'unione europea faccialo stiano facendo per prepararsi al momento in cui vi sarà il la chance di fare questo salto geopolitico e questa chance per terminare è avvenuta l'anno scorso con appunto il vertice di Versailles del marzo 2022 che di fatto ha determinato un momento di Salonico lo stesso prospettiva europea che citava il professore prima per i paesi d'Europa orientale che sono stati sono europei quindi rientrano nelle pretende dell'articolo 49 e vogliono e si impegnano a promuovere a rispettare e promuovere i valori europei per cui hanno quello che devono avere per poter entrare far parte del processo di integrazione e questo salto ha permesso anche questo momento geopolitico ha permesso anche di verificare che c'è la possibilità di passare dalla politica rivicinato alla politica d'allargamento queste due politiche ormai da vent'anni vanno avanti parallelo non sono a compartimenti stagni ma nel momento in cui appunto vi è la possibilità si può saltare dall'un lato si può creare una passerella tra l'un lato mi fermo qua e passo la parola grazie mille Davide per aver illustrato anche quelle che sono le principali novità di questo pacchetto di allargamento chiederei a questo punto ai relatori e alla relatrice di rispondere magari a questo primo intervento di Davide tenendo conto che purtroppo anche in questo caso il tempo è tiranno quindi vi chiederei di avere insomma considerazione anche questo grazie sì sarò molto breve mi hanno fatto molto riflettere gli interventi sono avvenuti dopo il mio grazie Davide appunto per questo escursus sul piano europeo in realtà quello che viene in mente a me di dire per concludere sì abbiamo avuto una sorta di scossa abbiamo preso una scossa con allargamenti progressi con i paesi soprattutto la Polonia e l'Ungheria con lo stato di diritto in questi paesi però pensiamo a ipotizziamo che appunto la Polonia e l'Ungheria non fossero diventati stati membri cosa sarebbero oggi questi paesi sono stati integrati in un momento in cui c'era forte crescita economica c'era un ordine mondiale abbastanza diciamo stabile adesso siamo in un contesto completamente diverso viviamo in crisi economiche non c'è un ordine mondiale chiaro si parla appunto di poteri regionali e se in questo momento lasciamo questi paesi fuori diciamo dal club dell'Unione Europea cosa sarà di loro ha giocato moltissimo ai paesi come Polonia e Ungheria a diventare membri non sono non sono una democrazia perfetta neanche l'Italia però diciamo dal punto di vista sociale e economico c'è stata una forte crescita anche dal punto di vista politico dobbiamo secondo me siamo responsabili di dare la stessa chance anche ad altri paesi se lo vogliono sicuramente c'è bisogno che facciano le riforme sicuramente c'è bisogno di un forte impegno ma c'è soprattutto bisogno di volontà politica da parte di entrambi i lati penso grazie ovviamente il lavoro che fa che fa la commissione nel preparare il pacchetto largamente è un lavoro incredibile enorme c'è tantissimo sforzo il discorso sulla volontà politica di questi paesi effettivamente a intraprendere la strada per diventare membri dell'Unione Europea e sempre guardando un po' l'esperienza bosniaca spesso c'è la tentazione di un po' come è stato il discorso delle 14 raccomandazioni chiave di abbassare la sticella sempre un po' non riesce non riesce a saltare un metro la abbassiamo 90 centimetri 90 centimetri sono troppi proviamo 80 a un certo punto il rischio è quasi di imboccare il successo agli attori politici che poi possono eventualmente sbandierare questo successo in chiave elettorale e perpetrare un ciclo non proprio virtuoso ecco appunto fatti salvi i meriti del del processo e della della redazione del pacchetto all'allargamento con tutto ciò che appunto adesso comporta e anche la parte economica ovviamente torno un po' al discorso di prima secondo me resta sempre più importante che nei limiti del possibile ovviamente che non si tratta qua di esportare la democrazia ci mancherebbe altro che l'Unione Europea e i governi dell'Unione Europea riescono un po' a come dire a scegliersi gli interlocutori cioè se a un certo punto capiamo che ci sono paesi parlo della Serbia ad esempio in cui si è creato un vero e proprio regime che riesce a dire qualcosa sui tavoli europei e qualcos'altro al proprio pubblico domestico a quel punto forse è importante anche costruire partnership forti con i movimenti di opposizione ovviamente l'Unione Europea è un attore istituzionale quindi non è che non è un NG ci mancherebbe altro però penso ci siano i modi per in qualche modo coltivare delle alternative possibili proprio per evitare che ci siano altri dieci anni di stabilocrazie o di lip service come si dice in inglese che dico sì sì tranquillo va tutto bene le riforme vanno spedite e poi al mio pubblico invece dico qualcos'altro e quello potrebbe essere ovviamente una cosa una cosa importante grazie grazie allora io temo di non essere diplomatico neanche questa volta ma mi perché io partirei è tutto giusto quello che è stato detto e soprattutto anche da Davide Denti che ha spiegato poi la logica è sicuramente anche un grande passo in avanti che si ripensa in dimensioni regionali perché quello era 15 anni fa un tema poi si è parlato anche forse un concetto che si dovrebbe riesumare una decina di anni fa si parlava nel dibattito accademico di EU Member State Building forse dovremmo pensare a questo perché siamo troppo secondo me in un canale di relazioni internazionali siamo troppo in qualche modo distaccati e questo non fa bene alla nostra credibilità perché dovremmo essere più sensibili come dicevo prima rispetto a questi sistemi di state capture di stati di regioni autoritari perché vogliamo democrazie che entrino democrazie funzionanti stati e questo è l'altro punto credibilità sostenibilità stati sostenibili che possibilmente non si trasformino in un'Ungaria o una Polonia nel giro di 10-15 anni dopo che sono entrati e nessuno guarda più così bene i loro criteri e i loro singoli dettagli tecnici allora siamo un po' catturati lì l'ambasciatore dell'Unione Europea in Bosnia e Herzegovina che ha iniziato con una dinamica molto forte il suo mandato e adesso è proprio quasi sulla via dell'uscita ha commentato i risultati del parere della Commissione nella relazione annuale con se c'è la volontà politica si può entra sì è proprio questo il punto e la volontà politica non c'è perché c'è in una parte della Bosnia qualcuno che lo stesso giorno pubblica un comunicato stampa e dice se cessione è il nostro obiettivo allora non possiamo tra virgolette fingere che questi sono stati come chiunque altro stato come si fa di solito nel diritto internazionale perché se faccio un rapporto con la Cina non mi interessa tanto cosa c'è dentro la Cina adesso semplifico e faccio bianco e nero ma per me i rapporti importanti che la Cina sia un partner appunto a cui mi posso fidare per le questioni che voglio fare con la Cina ma li vogliamo di più li vogliamo far entrare e sono d'accordo non possiamo non farli entrare anzi ho detto deve funzionare dobbiamo farlo funzionare come possiamo chiedere ad un giudice quando scriviamo non ci sono stati grandi sviluppi per quanto riguarda la lotta contro la corruzione come possiamo chiedere ad un giudice di esporsi in un ambiente così perché oltre alla legge oltre alle procedure ad una pulizia che su cui probabilmente in gran parte avremo già dei dubbi in questi paesi per quanto riguarda il tema di cui sto parlando non in generale allora oltre a questo ci vuole anche un coraggio personale quante mani pulite abbiamo avuto in Italia e in quale situazione allora dobbiamo un po' forse tenere più conto di questo e questo ovviamente va oltre a quello che può fare la commissione abbiamo proprio bisogno e lì ovviamente purtroppo abbiamo un'altra difficoltà che riguarda la nostra credibilità dovremmo trovare la volontà politica ma non solo in Bosnia e Herzegovina anche da parte nostra per dire questo è una priorità questo è il futuro dell'Europa questo avrà delle conseguenze per la stessa Unione Europea che dobbiamo in parte riconcepire ricambiare per poter andare avanti e così da un vecchio continente un vecchio allargamento forse possiamo qualcosa di più creativo grazie grazie di nuovo a tutti per queste piccole conclusioni